Droniste e droniste di tutto il mondo benvenuti e bentornati sul mio canale torniamo a parlare di droni e lo facciamo con un focus particolare oggi ci buttiamo nel mondo anamorfico le andiamo a fare con due lenti molto speciali di due produttori diversi che sono anche abbastanza antagonisti però in questo caso li presentiamo insieme quindi li vedrete in questo video non sponsorizzato insieme perché sono appartenenti a due emisferi diversi ovvero agli utenti di DJI Mavic 2 Pro e agli utenti di DJI Mavic Air 2 quindi due mondi che ora si scontreranno in questo video non andremo ad eleggere il drone a livello video di miglior qualità perché lo sappiamo palesemente quale sarà il vincitore c'è anche un confronto sul canale andremo invece a vedere cosa potremo fare per poter aumentare la dinamicità di queste riprese a livello proprio di aspetto d'immagine quindi a livello proprio di qualità video che permette di essere come se noi fossimo all'interno del nostro drone quindi una sorta di feeling immersivo andremo a vedere come fare per creare queste immagini tanto amate e apprezzate che sono immagini cinematografiche super super corte ora mi interrompo e vi lascio alle riprese realizzate con il DJI Mavic Air 2 buona visione ciao 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 bentornati ora vi lascio alle riprese realizzate con il DJI Mavic 2 Pro e questo fantomatico accessorio buona visione buona visione e ora che siete tornati da questo secondo clip vi lascio al terzo clip no sto scherzando perché se no questo video lo andiamo avanti a forza di clip e quindi direi che non è il caso lo dice anche l'Apple Watch ora cosa andiamo a fare? cosa andiamo a vedere? avete visto avete appena finito di vedere due clip girate con due droni diversi equipaggiati in due modi diversi ora sul primo sul DJI Mavic Air 2 c'era un setup pari a una lente che costa circa 50-60 euro quindi una lente relativamente economica che è una lente anamorfica Freewell ha recentemente anche già anticipato le versioni con l'ND incorporato cosa che vedremo essere molto comoda e utile e quindi con questa lente cosa avremo noi in più da poter sfruttare? avremo un campo visivo leggermente più ampio e avremo poi un'immagine da strecciare in post-produzione come si suol dire la strecciatura non è altro che l'allargamento dell'immagine quindi andremo a stirarla affinché le proporzioni dell'immagine poi siano corrette qui state vedendo realmente la procedura per farlo basta ricordarsi questi valori per bene perché così non dovrete poi farlo nuovamente per conto vostro e ricalcolarle ve li l'ho già calcolato io e questo qui vi permetterà di avere delle proporzioni in video corrette e il grande vantaggio è che in un video a 16 noni vedrete le fantomatiche bande nere che sono quelle cinematografiche che tanto piacciono c'è poco da fare con il DJI Mavic Air 2 quindi fino a questo annuncio da parte di Freewell l'unico modo per poter avere un video bilanciato e che potesse più o meno rispettare la regola dello shutter speed era impostare le riprese in HDR come ho fatto io per queste clip l'HDR automatico lo sapete che in alcune situazioni l'avevamo visto anche nell'analisi della camera della Air 2 non è che funzioni proprio benissimo sempre in tutte le situazioni infatti ci sono state immagini molto chiare proprio per quel motivo lì cosa potremo fare con le nuove lenti anamorfiche di Freewell che ve le posterò in questo video appena saranno disponibili intanto troverete quella standard acquistando i vari ND noi potremo in base alla situazione di luce andare a montare l'ND corretto e il bello quale sarà che avremo quindi modo di mantenere la regola dello shutter speed con il profilo di CineLike che è quello per il quale avevo realizzato i LUT che trovate poi in descrizione con i LUT con un click avete modo di cambiare colore quindi di effettuare una super color correction rapidissima facilissima già pronta quindi per quanto riguarda l'update di Freewell qui abbiamo un bel sistema che a breve vedrà l'uscita di questi articoli anche su Amazon e quindi avremo modo di selezionarci la lente anamorfica il vantaggio quindi in sostanza della lente anamorfica è quello di allargare leggermente il campo visivo quindi avremo più inquadratura sulla parte laterale destra sulla parte laterale sinistra e in più le bande nere mantenendo però un gimbal reattivo quindi avremo comunque la possibilità di installare la lente prima dell'accensione del drone non dovremo effettuare operazioni complicate come vedremo tra poco è una roba super semplice da fare che non danneggia il gimbal e che poi anche permette allo stesso di funzionare nel migliore dei modi in tutte le modalità anche se la sport è comunque sconsigliata lo smart controller tra l'altro è stato anche recentemente aggiornato al Mavic Air 2 e quindi potrà finalmente pilotare anche il Mavic Air 2 e di conseguenza gli utenti che lo hanno e che lo usavano sul 2 Pro o 2 Zoom ora avranno modo di switchare canale e mandare lo smart controller sull'Air 2 cosa veramente comoda soprattutto perché potremo installare un monitor esterno come quello che state vedendo adesso che vi permetterà di andare a vedere anche lì ciò che il drone sta inquadrando e vedremo quanto questa feature che è permessa grazie ad un supporto speciale che si chiama Lifthor e ha un display compatibile di vedere già il risultato strecciato finale lo vedremo tra poco nella seconda parte di questo video prima di continuare vi lascio la terza clip girata anch'essa con il Mavic Air 2 e poi passeremo al 2 Pro quindi se siete utenti Mavic 2 Pro vi toccherà aspettare ancora un pochetto buona visione che si chiama ok ho finito le clip per questo video quindi siete liberi ora andiamo nel dettaglio a vedere cos'è questo prodotto è il polar pro defender che vi lascio in descrizione no sto scherzando a parte questo lo troverete davvero in descrizione a parte questo andiamo a vedere altre due cose sull'air 2 poi ci spostiamo sul mavic 2 pro che era il protagonista della seconda clip il mavic air 2 oltre ad occupare uno spazio all'interno dello zaino notevolmente ridotto rispetto al mavic 2 pro è anche un drone che permette grazie ad un nuovo accessorio di telesin che vi segnalo perché è una comodità pazzesca la ricarica tramite un alimentatore piccolissimo grazie all'adattatore usb c a porta per la connessione della batteria assurda del mavic air 2 avremo modo di ricaricare con un caricatore molto compatto senza doverci portare dietro tutto l'ambara dam in un modo anche abbastanza rapido con la ricarica ufficiale proprio di giari quindi questo accessorio l'ho trovato essere estremamente comodo per quei due viaggi che sono riuscito a fare e poi ovviamente per la ricarica a casa arriviamo ora a parlare del mavic 2 pro qual è il vantaggio di questo drone quello di avere una camera da un inchio da un pollicio e questo pollicio ci rende un video incredibilmente bello infatti nonostante l'air 2 sia incredibilmente performante io comunque quando ho montato le riprese del 2 pro veramente sono rimasto a bocca aperta ancora oggi nonostante siamo passati più di due anni dal suo lancio perché secondo me ancora da parte i dji oltre al phantom 4 pro v2 non c'è un drone analogo con una potenza tale e con delle caratteristiche tali da rendere un video così bello già solo perché è stato girato con il mavic 2 pro cosa possiamo fare per spingerci ancora oltre con quella camera quindi ottenere ancora di più c'è anche qui una lente anamorfica che potremmo acquistare qui purtroppo il valore di questa lente è totalmente diverso da quella di fuel molto più costoso e anche il setup quindi anche per andare a montare questa lente dovremo metterci molta più pazienza rispetto a prima ahimè ci troveremo un kit un cofanetto che all'interno avrà un contrappeso e la lente anamorfica ben coperta con la sua coverina dovremo andare a montare la lente anamorfica dopo aver rimosso la lente di protezione della camera del mavic 2 pro dopodiché dovremo montare il contrappeso e poi assicurarci che il gimbal funzioni quindi sia attivo mentre faremo poi la procedura di rilancio del drone quindi ripilogando tutti i passaggi è necessario accendere il drone prima aver rimosso la lente di protezione del mavic 2 pro poi una volta acceso effettuato lo startup se necessario calibrare la camera quindi calibrare il gimbal se non necessario fare il compass e se non è necessario neanche quello girare il gimbal e di conseguenza girare tutto il drone sotto sopra per poter procedere all'installazione che richiede un po di manualità qui vi dico che ci vuole tanta pazienza mi è capitato più volte anche per lavoro di dover ogni volta smontare tutto sto drone e rifarlo perché il setup quindi questa cameretta richiede ahimè un po di pazienza perché a volte non viene bilanciata a volte non riconosce il contrappeso insomma ci vuole veramente tanta pazienza comunque una volta effettuato il montaggio quindi sistemato il tutto cosa occorre fare avremo il drone a pancia all'aria a quel punto bisogna girarlo quindi ribaltarlo attendere qualche secondo vedrete che il gimbal a quel punto tornerà in funzione quindi riprenderà l'energia qualora non dovesse farlo continuate a fare su e giù quindi ribaltate il drone e poi lo rimettete in asse e a quel punto la camera dovrebbe partire se non dovesse partire spegnetelo smontate la camera effettuate la calibrazione poi ripetete passaggio perché sono questi non c'è altro da fare quando avrete installato tutto e sarà tutto funzionante non effettuate compass e soprattutto la calibrazione del gimbal perché altrimenti andrete a risballare tutto il compass lo potrete fare solo proprio se il drone non dovesse decollare dovesse andare storto evitate di farlo dopo fatelo prima ma non dopo perché altrimenti con tutto sto setup c'è il rischio di rovinare il gimbal dopo aver concluso questa procedura c'è un'ultima cosa prima di decollare che è quella di andare a attaccare alla camera alla lente anamorfica di conseguenza il filtro necessario per abbattere la luce in ingresso dopodiché sarete pronti a volare ora capite bene che lo startup dell'air 2 rispetto a questo è totalmente diverso ma vi posso però assicurare che l'attesa merita perché la resa finale del video è totalmente diversa a differenza proprio della lente anamorfica di freewell per il mavic air 2 abbiamo un rapporto totalmente diverso qui abbiamo un desquiz da fare pari al 133 per cento ciò significa che le bande nere famose che andremo a creare sono molto maggiori rispetto alla lente anamorfica per air 2 quindi abbiamo una resa finale del video estremamente più cinematografica infatti l'avrete notato anche voi che nel video vi erano le bande nere mentre in quello dell'air 2 no perché il rapporto è proprio totalmente diverso e l'effetto grandangolare della camera è superiore a proposito di grandangolo c'è un'altra impostazione da verificare di non aver attiva che è la modalità fov all'interno della sezione video dove vi è la risoluzione è importante settare hq quindi 4k hq è il 4k reale quello che va a fare il crop all'interno dell'immagine finale perché facendo questo non avrete poi la parte esterna rovinata non avrete i bordi che vanno poi a riprendere la struttura della lente anamorfica l'hq vi permetterà di avere un'immagine pulita cristallina come quella che avete visto nella clip la seconda all'inizio del video arriviamo ora alla praticità del sistema lifter con il monitor desview di desview che è lo stesso gruppo di moman free world insomma se avete già altri prodotti io ne avevo recensito in passato loro questo è lo stesso mondo quindi un prodotto comunque di qualità relativamente economico anche tra l'altro da poco uscito che permette una serie di feature particolari una serie di funzioni avanzate come per esempio l'attivazione della modalità desquise quindi avremo modo direttamente dal display che avremo installato sullo smart controller di andare a visualizzare poi il formato finale del nostro video quindi vedremo l'inquadratura poi che avremo modo di elaborare in post produzione lì la vedremo sul campo cosa estremamente comoda proprio nelle impostazioni basterà inserire il fattore 133 x e a quel punto avremo l'immagine con le bande nere con le proporzioni corrette il sistema lifter e il monitor desview sono tutti accessori che ovviamente messi sullo smart controller ne aumenteranno il peso l'ingombro e la trasportabilità verrà ridotta però sono supporti che permettono di realizzare video con una certa comodità il lifter lo troverete in descrizione non credo sia ancora su amazon forse il produttore lo metterà prossimamente su amazon mentre il desview è su amazon però occorre acquistare delle batterie ve le lascio in descrizione vi lascio una linea di batterie leggera perché ci sono volendo batterie sony incredibilmente salsicciose però poi pesa tutto di più e ha anche poco senso riassumendo questo mega video dedicato al mondo anamorfico per dj mavic air 2 dj mavic 2 pro con questi prodotti quindi con la lente freewell e con la lente moment avrete la possibilità di andare a girare video in modalità anamorfica che vi permetterà quindi di avere un campo visione più ampio e le famose bande nere che nei video a 16 noni si vedono di più nel caso di freewell nei video anche a 2 1 quindi con rapporto 2 1 si vedono comunque bene perché il desquiz da fare è molto più importante rispetto a quello di freewell ciò non significa che la lente freewell è di minor qualità significa semplicemente che sono strutturate in modo diverso sono anche per due droni diversi hanno due costi diversi quindi qualora foste utenti mavic 2 pro io personalmente sono più che soddisfatto del prodotto e consiglio a coloro che realizzano video per lavoro o per piacere ma che hanno un particolare focus e vorrebbero avere ottenere qualità incredibile delle proprie riprese di farci un pensiero sono comunque entrambi lenti che non sono adatte a realizzare foto quindi in anamorfico non si scattano foto si girano video se siete quindi utenti estremamente amanti dei video andate diretti su queste lente anamorfiche sono eccezionali questo video ovviamente non è sponsorizzato lo sapete altrimenti l'avrei scritto se invece siete utenti per lo più fotografici complimenti per essere rimasti fino alla fine di questo episodio se vi è piaciuto lasciate un vi piace e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video però non dovete acquistarle secondo me perché è poco utile per il mondo fotografico ci vediamo al prossimo episodio un saluto e buona continuazione su youtube ovviamente in descrizione troverete tutti i link e sotto nella sezione commenti inviatemi le vostre domande per dubbi e chiarimenti ci sono ciao a tutti ah giusto il defender welcome back ora invece vi lascio bentornati vi lascio alla ripresa ben tornati ora vi lascio ora vi lascio alla ripresa no che ripresa no che ti ripresa no che ti ripresa no che ti ripresa no che ti ripresa no che vi lascio all'imparazione